gas operazione gas è diminuito siamo a 2,98 che aspita era arrivato a quattro slot quasi quattro slot 3,45 comunque tutte adesso siamo a 2,98 e beh fa la differenza è devo cambiare la targa cinque lettere datemi cinque lettere Italy potrebbe essere una oppure cindobre e dovrei mettere ecco cinque lettere no tolgo questa italiana ne metto una polacca con una piccola spesa extra posso mettere una targa personalizzata Italy potrebbe essere un'idea oppure che vi do tutto qua sotto visto com'è è già da un po' che sento puzza di benzina da questo lato centro commerciale a Bierskobiawa sfera è diviso in due parti questo è una parte e qua c'è la seconda parte collegato da un piccolo passaggio Bierskob e arriviamo ti conosco non so io non so chi sei fantastico oggi ho portato a fare un giro questi stivali penso che non li porterò più non vi porto più a fare nessun giro ma io ho portato tutto tutto ok ok let's go le macchinine eh ma ma io voglio tornare piccolino giocare ancora con le macchinine guarda che queste sono bellissime eh belle quello che pe a fare ma l'ultimo che c'è il qu'il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.